Buongiorno, buongiorno e bentornati. Buongiorno, buongiorno e bentornati. Ci si è fermati intorno al 32%, dunque il referendum non passa. Vedremo insomma quali sono le reazioni, soprattutto politiche, di questo mancato raggiungimento del quorum. Poi chiaramente i fatti di cronaca locale e tanto sport con i servizi di ieri, in particolare delle due partite di Lega Pro di Teramo e l'Aquila e le partite di Serie D. Iniziamo subito con la prima pagina del Corriere della Sera. Manca il quorum, le accuse di Renzi. Referendum nullo, alle urne circa il 32%, la demagogia non paga, basta con l'olio e le spallate. scontro nel PD per un tweet di Carbone che ironizzava sulla scarsa affluenza. Serracchiani, chi ha voluto il quesito risponda dell'esito. Poi per lo sport, lite tra Totti e Spalletti, parte bene il Milan di Brocchi. Marchisio, grave infortunio. E poi ancora, tornando al referendum, la storia aborto e nucleare quando al voto andavano tutti. Domande e risposte che cosa accade su Trivelle e concessioni. Il primo verdetto nell'editoriale di Antonio Polito. E poi ancora la fotonotizia con il Salone del Mobile, numeri da record del Milano del Design. è stata l'edizione con più visitatori. Sempre in taglio medio, il vice del CSM, Legnini, daremo noi indicazioni via dai fascicoli, i dialoghi personali. In basso, esclusa perché autistica, bloccata la gita, decisione della scuola dopo l'intervento del ministro, la comunità ebraica la portiamo noi. La prima pagina ora della Repubblica, andiamo a vedere insieme, referendum Trivelle, niente quorum. Renzi, hanno vinto i lavoratori, l'affluenza si ferma al 32%, il Premier, dimostrazione che la demagogia non paga. Poi fallita la spallata, no alla resa dei conti nel punto di Stefano Folli. E poi ancora la fotonotizia alla vigilia delle primarie democratiche di New York. Osceni i soldi raccolti per Hillary, il pentimento di George Clooney. Poi ci sono le dichiarazioni del presidente egiziano a Hollande, al Sisi, i diritti umani UE non valgono per l'Egitto. E poi ancora, in basso, la smagna di fare ordine in casa, antidoto al caos del mondo. E dalla parte opposta, per lo sport, Juve è un passo dallo scudetto. Supertotti scintille con spalletti. Prima pagina del giornale, referendum sulle trivelle, 16 milioni di voti contro Renzi. Affluenza ferma al 32%, il quorum non c'è, il Premier esulta e attacca le regioni, ma il Governo si sente assediato. Berlusconi blinda Bertolaso, il miglior sindaco possibile. Governatore Notri, Vemiliano il nuovo arci nemico alla guida della Fronda PD. La sponda del Quirinale, Mattarella vota all'ultimo per aiutare il Premier. Gua in vista dalle comunali alle riforme per sei mesi d'inferno per Matteo. In Chino alla Turchia, un comico fa tremare la Merkel per due tedeschi. 3 su 3, il processo Bomberman è una resa. E poi ancora, l'editoriale di Piero Stellino, Ideologia e libertà, la fine delle utopie e i conti con la realtà. Il controcorrente, nuovi modi per trovare lavoro, padri, mamme eppure nonne, dopo i 50 si riparte dallo stage. In basso, ora il Ministero corre ai ripari, la burocrazia cancella i gemelli, il bonus bebè a un solo neonato. E poi il finale di partita di Giuseppe De Bellis, la Roma pareggia, Totti vince, Spalletti perde. La prima pagina del Fatto Quotidiano, la Trivella vince, il mare perde. Renzi trionfa con chi non vota. 16 milioni non bastano al quorum, Mattarella si nasconde, Matteo brinda. E poi Michele e Emiliano, non sono riusciti a umiliarci, stiano pure con le lobby. Quel che resta, il grande regalo alle compagnie e le partite aperte. Mostro ombrina, lottiamo ancora, il nostro petrolio resta l'ambiente. Poi in basso, la grande festa che Dio salvi la regina, Elisabetta Star ha 90 anni. Le carte, tutte le trame di De Giorgi con licenza di uccidere, l'inchiesta travolge la marina militare. E ora la prima pagina che andiamo a vedere è quella del messaggero, chiaramente nella sua versione nazionale. Si parla in questo caso di voto flop, schiaffo di Renzi. Tonfo dell'affluenza al referendum sulle Trivelle, alle urne solo il 31%, non c'è il quorum. Il premier sferza le regioni promotrici, la demagogia non paga. Hanno vinto i lavoratori. E poi in alto, sotto la testata, miti del rock, Axel Rossi si sdoppia con la sua band, ma diventa vocalist anche degli ACDC. Nuovo corso, la Lazio di Inzaghi concede il bis, batte l'Empoli e sogna l'Europa. L'effetto governo, un banco di prova per la sfida in autunno, è l'editoriale di Alessandro Campi. E poi ancora, così è naufragata l'invincibile armata dei No Trive, il focus, ora più difficile bloccare il gasdotto TAP. L'inchiesta di potenza, manovre per lo bello a Union Camere, la rete di gemelli e soci per la nomina. Fotonotizia, Totti Gol salva la Roma dal K.O., poi lite e insulti con spalletti, fisco, meno tasse dal secondo figlio, ai fondi pensione, il piano del governo punta su famiglie e welfare, petrolio fallisce il vertice sullo stop alla produzione. In basso, Regeni, Alcisi, basta pressioni dall'Italia, il vertice al Cairo con on land. E ora possiamo andare a vedere le prime pagine, piuttosto simili, delle quattro edizioni del centro, perlomeno simile il titolo d'apertura. Ecco qui, fallisce il referendum sulle Trivelle, al voto soltanto il 32% degli italiani. Renzi hanno vinto i lavoratori. E c'è poi il punto di Antonio De Frenza, rimandata la palla a Palazzo Chigi. Qui siamo nell'edizione aquilana del centro e qui vediamo per la fotonotizia calciatori sotto assedio l'Aquila, spintoni e insulti dopo la sconfitta col Siena. Calcio di Lega Pro, salvezza diretta a rischio nelle cronache, bussa a fuoco nel traforo, indaga la procura. E poi ancora coppia di pensionati, vince 90 mila euro, colpo alle slot machine ad Avezzano. Poi ancora il buongiorno Abruzzo di Rocco Coletti, ancora botte, poveri arbitri abruzzesi. Ora la prima pagina dell'edizione di Chieti. C'è sempre il referendum sulle Trivelle come titolo d'apertura. La fotonotizia è questa qui, divisa in tre, calcio e basket, festa finale Proger, vastese verso il sogno. Chieti solo un pari. Gli richiami di cronaca, petrolio a Chieti tonnellate di scarti. E poi ancora un ex capo di Stato nel CDA dell'Unidav, sorpresa all'università. E poi ancora giustizia per mia figlia, Chieti pestata in discoteca, l'appello della madre. Prima pagina dell'edizione di Teramo, il Teramo ora è al sicuro, calcio di Lega Pro 3-0 al Bonolis, vittoria contro la Lucchese, salvezza matematica. Ancora bussa a fuoco nel traforo, indaga la procura a Teramo. Le multe di dieci anni fa fanno fermare l'auto, cittadina vince contro il comune. Prima pagina, ora quella dell'edizione di Pescara che andiamo a recuperare. Anche in questo caso chiaramente il titolo d'apertura è il falimento del referendum sulle trivelle. Poi la fotonotizia in questo caso dedicata al Fiorello Show a Pescara, da oggi a mercoledì. In scena al Teatro Massimo con l'ora del Rosario. Tra i richiami di cronaca sempre l'apertura dell'inchiesta per quanto riguarda il bussa andato a fuoco nel traforo. Per il calcio la cessione del bomber Genoa in pole position per avere la padula. E poi mare dati allarmanti. Pescara, inquinamento oltre i limiti fino a via Mazzini. Subito a pagina 2 e pagina 3 la vicenda referendum. L'Abruzzo si ferma al 35,2%. Mai sì, superano l'87%. Soltanto alcuni comuni della provincia di Chieti superano il quorum. La località con più votanti è stata a Montebello sul Sangro con il 54,54%. E qui vediamo i dati per provincia con netta preferenza del sì. Con dati che oscilla tra l'86 e l'89%. E l'affluenza che oscilla dal 31% della provincia aquilana fino al 40,28% in provincia di Chieti. Per un totale appunto del 35,2%. Ho votato sì perché aspetto tutto l'anno che arrivi l'estate. Il sole, il caldo, il mare. Così sarà Marco Orsi del Movimento 5 Stelle. Poi inutile l'ultimo appello al voto. Italiani un po' d'orgoglio. Diamo un po' di segnale. Diamo un segnale al governo. E poi, dopo le parole di Alessandro Lanci, quelle del parlamentare Gianni Melilla, 4 milioni di italiani all'estero fanno quorum ma non vanno a votare. E poi ancora, trivelle senza quorum, affluenza al 32%. Renzi, messaggio chiaro, bisogna saper perdere. Basta polemiche. Il 78% dei votanti si è espresso per il sì. Avanti ora con la pagina dell'Abruzzo. Pagina 9. Pasta, vino e mobili. Non c'è solo l'auto nel balzo dell'export. I distretti tradizionali guadagnano quasi 5 punti nel 2015 in analisi di intesa San Paolo per Banca dell'Adriatico. E poi in regione più mezzi alla protezione civile, costo di formazione per l'utilizzo dei cingolati per l'antincendio. Avanti ancora con le pagine di Pescara e Provincia. Qui l'argomento è l'emergenza inquinamento. Le ultime analisi dell'Arta. Il mare è ancora sporco dal porto a via Mazzini. Ecco i risultati degli ultimi esami. Colibatteri di nuovo oltre i limiti a nord. Situazione migliorata solo a Portanova ma la stagione partirà con i divieti. Via Balilla fuori norma. Superati i livelli fissati dalla legge per la sicurezza della popolazione di Escherichia Coli ed Enterococchi. Il fiume è una cloaca. Dati allarmanti nel tratto che attraversa la città. Alla foce si registrano valori da record mai toccati in passato. D'altro canto a Montesilvano i medici premiano la spiaggia. L'associazione Pediatri Italiani promuove servizi e sicurezza ma la qualità dell'acqua non c'entra. Avanti ancora le spese della sanità, gli affitti d'oro della ASL per distretti e uffici. Ogni anno vanno in fumo 1,2 milioni di euro per pagare gli spazi in locazione ma i lavori per costruire nuovi edifici e abbattere i costi sono bloccati da 13 anni. Strade piene di buche, il comune. Ora i lavori del vecchio interviene dopo la denuncia del papà del ragazzo caduto con la moto e che rischia di restare paralizzato. Ci dispiace, le responsabilità sono da chiarire. E poi il calice di Toyo Ito. Il calice è ancora a Pomezia e deciderà Toyo Ito cosa farci. L'opera di Piazza Sarotto finita in frantumi. Tasse revocato all'appalto in 16 rischiano il posto. Il comune dopo un anno blocca l'affidamento alle ditte della riscossione. La CISL denuncia, addetti mai regolarizzati, ora potrebbero perdere il lavoro. Tassa sui turisti, si riapre lo scontro. Blasioli pronto a far cadere tutti gli emendamenti e l'opposizione va dal prefetto. Avanti ancora a Montesilvano il comune cerca sponsor per la riviera. Non ci sono soldi per la manutenzione. Parte l'appello a imprese e cittadini. Fiori, panchine e rastragliere per le bici. Il lungomare è più bello senza spendere. Pagina ora di Chieti, Università delle Sorprese. Un ex capo di Stato nel CDA dell'Unidav. Dagli incontri con Bush Junior e Papa Wojtyla al piccolo Ateneo Telematico di Torre Vecchia. Ecco chi è il Presidente Schuster. Qui alcune foto che lo ritraggono in momenti importanti della sua attività politica e istituzionale. L'inchiesta ci riguarda. Petrolio, tonnellate di scarti finite da Potenza a Chieti. In basso, mia figlia rovinata da quel pugno al volto. La denuncia della madre Teatina. Nessuna giustizia per la diciottenne picchiata in discoteca a Mosciano. E poi, così, Finamore scoprì la vera lingua abruzzese, medico e letterato di Gesso Palena. Suo il primo vocabolario del nostro dialetto. Studiò le tradizioni popolari. Grazie a lui sono diventate forme di alta cultura. Andiamo avanti. La pagina dell'Aquila. Busta a fuoco nel traforo. Ora indaga la procura. I primi accertamenti. L'autista era sobrio e ha agito in modo corretto. La strada dei parchi. Soccorsi immediati. Grazie ai nostri rilevatori. E poi, ancora in basso, Claudia. La donna che neutralizza le bombe. Sul Mona. Claudia Papale. La prima sminatrice dell'esercito. La sua ultima missione è stata in Libano. Pagina di Teramo. La sentenza ai tempi lunghi della burocrazia. Autobloccata per molte di dieci anni fa. Teramana fa ricorso contro il fermo amministrativo. Il giudice le dà ragione. Comune condannato a pagare le spese. La sanzione impugnata. La cittadina ha dimostrato di non aver mai ricevuto la notifica delle tre contravvenzioni per diveto di sosta risalenti al 2005. Negozi allagati per la rottura della condotta. Mosciano, commerciante al lavoro, per ripulire i locali pieni d'acqua. Riaperto il sottopasso della A14. Poi in basso. Fa la pipì davanti al seggio elettorale. Referendum denunciato un romeno. E un anziano lancia volantini a favore del sì. Lasciamo il centro. Andiamo ora a vedere le pagine del messaggero. E in chiusura del messaggero Abruzzo faremo il break meteo con Giovanni De Palma. Ecco l'apertura del messaggero Abruzzo. Scandalo Petroli. I rifiuti a Chieti dopo il coinvolgimento di Giovanni Damiani. Un'altra sorpresa dall'inchiesta di Potenza. 13.000 tonnellate di scarti dell'impianto di Vigiano. Finite nell'impianto di San Martino. Poi sotto la testata il premio Prisco di Francesco Insegna al Marrucino per la cerimonia questa mattina. Serie B. Subito in campo il Pescara. Domani alla Spezia. Tanti assenti per Oddo. Lega Pro. L'Aquila Picco. Rissa sfiorata con i tifosi. Rischio d'aspo per i giocatori. Poi ancora il referendum. L'Abruzzo. Lontano dal quorum. Il record spetta a Lanciano. Città capitale della lotta. No Triv. E poi in taglio medio inchiesta sul rogo nel traforo del Gran Sasso. Indaga la Procura dell'Aquila. Soccorsi anche alcuni studenti di Tivoli in visita ai laboratori. Ortona. Bella e impossibile. Ripari di Giobbe. Baia. Inaccessibile. E poi in basso certa mensciola americano che parla latino. Entriamo all'interno del messaggero Abruzzo. L'Iquami nel fiume. Allarme infinito. Il comune accerta uno sversamento da una condotta in via di Valle Roveto vicino alla concessione della Enjoy River. Il titolare guasto segnalato nel 2012 ma nulla è cambiato. Telecamera dell'ACA nella tupazione a caccia di allacci abusivi. Il sopralluogo è stato effettuato dalla squadra ambientale della polizia municipale con il vice sindaco. E poi ancora sulle ceneri dell'ex consorzio agrario sarà costruito un supermarket Conad. Firmato il contratto entro un paio di mesi il via ai lavori su via del circuito. Tremano le attività alimentari della zona. Pagina dell'Aquila. Pulmani in fiamme nel traforo. Scatta l'inchiesta della procura. Evacuata nel contempo pure una scolaresca di Tivoli in visita ai laboratori di fisica nucleare. Il bus con 47 giovani era diretto a Roma per assistere alla trasmissione TV Amici. Prende sempre più piede il particolare che a innescare l'incendio sia stato un corto circuito. Poi Campo Imperatore chiude una stagione molto positiva. Centesimo in ultimo giorno sull'isci. Il presidente Giuliani la funivia attiva anche in estate. In Marsica in Migliaia sul Salviano a ripulire la riserva. I volontari dell'associazione hanno risposto alla grande all'appello lanciato per l'iniziativa ambientalista. Almeno un migliaio di vetture parcheggiate alle pendici del monte. L'assessore Verdecchia. Vedremo alla fine il bilancio. Anti sporcaccioni. Pagine ora di Chieti e Teramo. Iniziamo da Chieti. Madonna delle Piane. Piazza e Rondò per la porta di Chieti. Il nuovo snodo stradale inaugurato. Ieri sera faciliterà il traffico diretto al campus universitario e all'ospedale. Viabilità più sicura e valorizzazione della Chiesa. Gli obiettivi centrati dal progetto secondo il sindaco Umberto Di Primio. E poi ancora lo scandalo Petroli e i rifiuti finiti a San Martino. Pagina di Teramo. Mancano i posti letto verso ricoveri abbreviati. Il Mazzini si trova a svolgere una mansione prettamente sociale soprattutto con gli anziani. Non tutti hanno le 40 euro per pagare la compartecipazione per le rette giornaliere. Maria Mattucci, direttrice sanitaria, manca un filtro territoriale adeguato per bypassare il pronto soccorso. E poi Giulianova civicamente al sindaco scardinare i privilegi. Ragni, Mustone e Guerrucci dettono le linee per approvare il bilancio. E allora ci fermiamo qui anche con il messaggero Abruzzo. Poi torneremo con le pagine dello sport sui quotidiani locali. Prima di passare alla gazzetta dello sport vado a salutare e dare il buongiorno a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Ciao, ciao Giovanni, buongiorno. Subito le ultime sul fronte meteo. Andrea, la settimana parte ancora l'insegno del caldo intenso sulla nostra regione perché la nostra regione continua ad essere interessata da un intenso flusso di correnti sud-occidentali che sul versante orientale si traduce in garbino. Il garbino favorisce un deciso aumento delle temperature tant'è che nella giornata di ieri si sono registrati oltre 30 gradi su diverse località della nostra regione, in particolar modo sulle zone collinari e alto collinari. Valori al di sopra delle medie anche di 12-14 gradi oltre alle medie stagionali. fa ancora caldo in queste ultime ore perché continua a soffiare il garbino, si registrano temperature anche al di sopra dei 23-24 gradi in ulteriore momento nelle prossime ore. Lungo la fascia costiera invece i valori sono ben più bassi perché il vento non riesce a sfondare e raggiungere proprio la fascia costiera, il garbino non raggiunge la fascia costiera, di conseguenza abbiamo delle brezze marine che favoriscono, mantengono le temperature al di sotto dei 20 gradi, siamo sui 16-18 gradi lungo la fascia costiera. Ma Andrea questa situazione tenderà a cambiare a partire dalla giornata di domani perché il garbino pian piano tenderà ad attenuarsi e transiterà un veloce impulso di aria fredda che nella giornata di domani raggiungerà anche il medio versante adriatico. Quindi il transito di questo impulso di aria fredda favorirà una disposizione settentrionale delle correnti, quindi avremo dei rinforzi del vento stavolta da nord o da nord-est e ciò favorirà una decisa e sensibile diminuzione delle temperature ma ovviamente l'arrivo dell'aria fredda potrebbe dar luogo a fenomeni di instabilità con rovesci anche a carattere temporale accompagnati da raffichi di vento. I fenomeni saranno più probabili sul versante orientale della nostra regione. Poi la situazione migliorerà ma il tempo continuerà ad essere caratterizzato da masse d'aria fresca che continueranno a soffiare, venti freschi che continueranno a soffiare dai quadranti settentrionali almeno fino alla giornata di giovedì. Poi avremo un nuovo miglioramento del tempo e a seguire, almeno per quanto riguarda la tendenza di finestrini di settimana, si preannuncia un deciso peggioramento del tempo ad opera di masse d'aria fredda in arrivo dall'Europa settentrionale. Quindi una situazione poi questa da analizzare diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti, Andrea. Bene, bene, bene. Dunque diverse novità in arrivo sul fronte meteo. Senti, il tifoso Giovanni De Palma firma per il punto domani alla Spezia? Io penso che le partite vanno giocate, Andrea, fino alla fine perché firmare per un punto insomma non è da Pescara, ma non per qualcosa perché il Pescara non può badare a difendersi. L'abbiamo già visto in diverse occasioni, il Pescara quando tenta di contenere gli avversari non ci riesce, insomma prende sempre il gol, subisce sempre. Il Pescara deve fare la sua partita come ormai è abituato a fare. C'è una partita votata all'attacco perché il Pescara non sa difendere come altre formazioni. Quindi le qualità che ha questa squadra sono quelle di proporre un gioco offensivo. È una partita difficile, la Spezia ha anche giocatori di qualità, insomma merita anche la posizione in classifica. Noi abbiamo perso diversi punti, io penso che sono partite cruciali questa per tentare di agguantare il terzo posto che io credo il Pescara meriti ampiamente. Ma comunque sarà una partita molto difficile, Andrea. È vero, è vero. Grazie, grazie Giovanni. Ti auguro un buon lunedì e una buona settimana. Grazie, una buona settimana anche a te Andrea e a tutti i telespettatori di Lusso. Grazie a Giovanni De Palma. La Gazzetta dello Sport, la prima pagina, ecco qui i due titoli d'apertura che grande, che grane, per meglio dire la Juve Scudetto, quattro reti al Palermo, più nove, Marchisio Crociatoreotto, circa sei mesi di stop, salta l'Europeo, Allegri vuole garanzie sul mercato, prima del contratto bisogna pianificare il futuro. Essè, puntini, puntini. Poi, da quest'altra parte, Kellite, Totti Spalletti, la Roma frena a Bergamo, il capitano evita il KO, ma l'Inter è a meno quarto. Il tecnico da dieci anni fate figure di, eccetera, eccetera, e tu zitto giochi a carte fino alle due di notte. Addio vicino per Francesco, USA o Emirati. In mezzo all'analisi di Luigi Garlando, se segna Padoin, se manca Higuain, c'è anche la rima. Poi sotto la testata il Milan imbrocca la prima, bacca gol, Brocchi in festa a casa, Samp. In basso Spagna, Messi fa 500 gol, ma il Barça va a picco, Simone lo raggiunge, il Real adesso è a meno uno. Formula 1 in Cina, Rosberg sono tre, Ferrari autoscontro, Fettel e Raikkonen poi risalgono, secondo e quinto. Tennis, Nadal torna Re a Monte Carlo, Federation Cup azzurra in B, è la fine di un ciclo. Ciclismo, Gasparotto bis all'Amstel, Felline caduta shock, frattura cranica. Petrucci, FIP, FIBA e CONI sono la legge. I club del basket rispettino le regole. All'interno della Grazzetta una rapida sfogliata, Juve allegri ma non troppo, le mani sul titolo, il contratto in vista però Max fa melina. pianifichiamo e il ginocchio fa crack per Marchisio, addio all'Europeo e qui c'è anche una vignetta per insomma vedere di cosa si tratta appunto il crociato il crociato anteriore che si è rotto nel ginocchio di Marchisio. Avanti ancora con la pagina sulla querelle, spalletti contro Totti, giochi a carte fino alle due di notte, per questo a Roma non vincete mai. E poi da quest'altra parte il capitano dirà addio e Geco farà lo stesso. Poi ancora c'è Brocchi, il Milan riparte, Balo lotta e Bacca decide. Digiuno stop, ecco Carlos proprio all'ultimo respiro per la vittoria di misura del Milan a Genova. La Fiorentina si rilancia e Di Francesco rinnova. Questo è il titolo su Fiorentina-Sassuolo 3 a 1 ma andiamo ancora avanti. Qui c'è il titolo sulla promozione del Parma, la risalita di Parma, una città in amore in 15.000 al tardini per salutare il ritorno fra i professionisti. Apolloni, orgoglio e dignità. Apolloni l'allenatore appunto del Parma che è ripartito dalla D e ha vinto appunto il suo girone. Per quanto riguarda la Serie B c'è Sena e Crotone con l'A nel mirino tra ex e polemiche. Per la Lega Pro ci sono i titoli chiaramente su Teramo e l'Aquila. L'Aquila Siena burrà e pellegrini in 14 minuti. Siena fa tutto in fretta. L'Aquila si rovina la vita. Per quanto riguarda Teramo Lucchese, Teramo basta mezz'ora, la Lucchese non ne reagisce. Galderisi indifendibili e poi ancora per la Formula 1 Dragone-Rosberg, Nico in fuga, autoscontro Ferrari, Vettel e Raikkonen si toccano la prima curva, poi rimontano e chiudono al secondo e quinto posto. Ricciardo in testa al via ma fora, Piat terzo, Hamilton settimo con una Mercedes danneggiata, Seb ammette, scusa Kimi mi trovavo in sandwich, Marchionne senza botto ci giocavamo la vittoria. Poi ancora per il ciclismo Gasparotto sa cos'è l'emozione. Amstel Gold Race, bis del Friulano, primo nel 2012, che ricorda il compagno De Moitié morto al Gant. Terzo col Brelli, Aru si tira Dolori alla schiena, salta le Ardenne. Prima di andare in pubblicità possiamo andare a vedere anche la prima pagina del Corriere dello Sport, dopodiché ci concentreremo sulle testate locali. Ecco la prima pagina, trionfo Juve, Marchisio e Pertescu, detto a un passo ma un campione si ferma. L'opinione di Alessandro Vocalelli, grande Juve e forza Marchisio. Sotto la testata Totti Gol salva la Roma, poi Lalite con Spalletti, parole grosse negli spogliatoi dopo il 3-3 con l'Atalanta. Milan effetto Brocchi 1-0 a Marassi, vola in Zaghino 2-0. Domani al San Paolo Sarri sfida il Bologna e poi è già Lega Pro, il Parma in delirio promosso tra i Pro, Formula 1 in Cina, Fettel secondo va sul podio e accusa Kvyat. Andiamo ora in pubblicità, poi ci ritroviamo con la seconda parte. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6, ripartiamo dal centro con lunedì sport, Pescara e Asta per la Padula, il Genoa in Pol, ma ora si muove il Leicester, Maragliulo e il Lanciano contro l'ex Baroni. Calcio di Lega Pro, l'Aquila affonda, minacce e zuffa, ultracalciatori. Poi per i direttanti, solo pari per il Chieti, Colpo San Nicolò, Mitterlina, Picco, eccellenza, Vastese Paterno, il duello si deciderà negli ultimi 90 minuti. Promozioni, il Penner, Scavalche, il Passo Cordone ed è solo in vetta. Il premio viene assegnato oggi di Francesco A. Chieti per il Prisco. Andiamo avanti, la pagina sul Pescara, il Leicester sulla Padula, ma c'è il Genoa in Pol, Oddo, siamo in emergenza, però ha la Spezia, non firmo per il Pari. L'inviato del club capolista in Premier League è con Mr. Johnson e i suoi appunti, il capo scout entusiasta del Bomber. Il tecnico Biancazzurro, siamo contati, bisogna essere bravi e intelligenti, non so se riesco a recuperare Caprari, ho paura di perderlo per lungo tempo. Domani sera allo Stadio Picco, ennesimo scontro diretto, anche il Bebiventola è finito in infermeria a centrocampo. Davanti alla difesa tornerà dall'inizio l'esperto Bruno. Tre turni ad Addae, uno all'albanese Memushay, le decisioni del giudice sportivo. E poi Onofri, uno dei commentatori di Sky, il capo cannoniere da maglia azzurra. I play-off Pescara, Spezia e Bari sono i favoriti per il salto di categoria. Andiamo a vedere ora il messaggero. Pescara, emergenza infinita, domani alla Spezia saranno addirittura dieci gli assenti. Slitta il recupero di Caprari, con lui non possiamo rischiare. La Padula è un fattore decisivo a prescindere dal gol. Mandragora in difesa ci ha risolto parecchi problemi. E allora ascoltiamo proprio le parole del tecnico Massimo Oddo che appunto parla della difficoltà di recuperare Caprari e parla del gesta del bomber La Padula. Caprari non sappiamo se ce la fa. Cocco è fermo. Era fermo anche domenica. Qualcuno mi ha detto che non era stato convivio ma era infortunato. Caprari ha un leggero fastidio sul vasto mediale. Non è tanto quel tipo di problema che può ingrandirsi ma il fatto che avendo un piccolo problema lì magari gli appoggi la corsa, viene fatta male e potrebbe risentire l'adduttore magari in maniera più pesante. Magari stirandosi. Quindi dobbiamo valutare bene la situazione. Potresti preservarlo anche mantenendo? Ma no, ma non è una questione di preservarlo. È una questione che se rischia un stiramento ovviamente non può giocare. Preferisco perdere due partite anziché se si stirano poi ne perde tante. E questo aspetto da trascinatore, tutte queste cose che fa, la facilità con cui fa una rovesciata, sono tutte cose che tu o ce l'hai o non ce l'hai nel ripetore. Quindi lui le ha sempre avute queste cose. La certezza e la sicurezza di essere amato da tutti, qualsiasi cosa fai, comunque prendi l'applauso, ti dà delle certezze e fa sì che sembri che sia una crescita costante così come lo è. Ma l'aspetto principale su cui è migliorato lui è che adesso, a differenza dell'inizio dell'anno, riesce a fare 90 minuti e arrivarci bene. Riesce a giocare meglio, deve migliorare anche lì, ma meglio in fase di non possesso palla. Magari prima si vedeva un giocatore che dava una grande mano a livello difensivo, che correva tantissimo, voleva aiutare, ma lo faceva male e sprecava molta energia. Adesso invece sta migliorando sotto questo punto di vista e questo l'aspetto forse dove è migliorato di più. Assolutamente sì. E ora parliamo di Lanciano. Dieci punti per sperare, si legge sul messaggero. Maragliulo punta a quota 50 per annullare anche gli effetti dell'eventuale nuova penalizzazione. Sul centro, Maragliulo contro Baroni, quando il vice sfida il capo. Domani Lanciano-Novara. Per due anni sono stati insieme alla Virtus e al Pescara. Poi il divorzio, uno per la salvezza e l'altro per i play-off. Sarà uno scontro fratricida. Poi in basso togono gli squalificati. Rosa valida e allenatore molto bravo. Il tecnico dei Frentani riempie di elogi gli avversari e l'amico. Noi ora andiamo ad ascoltare le parole pronunciate dopo il pareggio di Latina dal centrocampista Manuel Giandonato. Mancando oggi Bacinovic, ti aspettavi di giocare dal primo minuto? Ma no, io sinceramente mi aspetto tutti i sabati di poter giocare dal primo minuto. Poi c'è il mister che fa delle scelte e noi le rispettiamo. A me che sia un minuto, che siano 90, che siano 100 io devo sempre dare il massimo. Aspetterò il mio turno perché potrebbe arrivare da un momento all'altro la partita titolare. Oggi hai avuto anche l'occasione con quel tiro dal limite dell'era di rigore di far male a Ucani? Sì, assolutamente. C'è un po' di rammarico perché sono arrivato leggermente sbilanciato col corpo però spero che dalla prossima partita ci siano altre occasioni e mi farò trovare più pronto. L'ultima, Manuel, per chiudere. Martedì ci starà questa gara con il Novara. Vogliamo fare un appello al pubblico, ai tifosi del Lanciano perché sarà importante anche l'apporto della tifoseria in una gara così difficile ma allo stesso tempo fondamentale. Sì, sicuramente noi abbiamo molto bisogno dei nostri tifosi ma sono sicuro che non ci tradiranno e verranno allo stadio a spingerci fino all'ultimo secondo. E ora la Lega Pro sul messaggero Teramo Tris per la salvezza liquidata la Lucchese con un perentorio 3-0 l'anno scorso si festeggiava la B stavolta arriva la permanenza matematica decisivi i gol di Cruciani nel primo tempo e poi Petrella e Di Palantonio nella ripresa spazio ai giocatori del Primavera. I Toscani partono bene, poi scompaiono c'è entrato l'obiettivo minimo stagionale Tini e Palestini, il futuro è dei giovani Alessandro e Di Pineto posso dire che almeno ho portato fortuna e poi le parole di Vivarini non è stata una stagione facile avanti sul centro sempre per il Teramo ecco la due pagine Tris salvezza, Teramo, Vittoria e Squarci di futuro travolta la Lucchese e debuttano due baby del Vivaio poi ancora Galderisi una tradizione negativa Teramo prende sempre tanti gol circa le pagelle Amadio una regia sontuosa Petrella e Di Palantonio decisivi speranza da spettacolo tanti set nel Teramo e c'è il sette e mezzo per Amadio il migliore Vivarini mai vissuti tutti questi problemi il tecnico c'è da essere contenti per la salvezza siamo stati bravi il mio futuro prima c'è da prendere il DS e poi si vedrà per me e allora spazio al servizio di Teramo Lucchese 3-0 3 gol, 3 punti e la certezza data dai numeri di essere di nuovo ai nastri di partenza della prossima Lega Pro il Teramo nel pomeriggio con la Lucchese mette in cassaforte solo buone notizie e per quelle che erano le premesse ad agosto c'è da dire che si tratta davvero di un grosso risultato un avvio a rilento per i biancorossi il lob dalle retrovie di Caidi al decimo trova un altro pallonetto quello che prova Moreo col piatto destro senza però inquadrare lo specchio della porta e l'antipasto del gol del Teramo che arriva al quarto d'ora Petrella sfrutta i blocchi sul corner di Paolo Antonio ma cicca il servizio del compagno di squadra la conclusione che ne viene fuori diventa di fatto un servizio per Michel Cruciani che si traveste da uomo d'area di rigore e trafigge Masi per il gol che conferma quanto il centrocampista ex Benevento si esalti quando di fronte si ritrova una formazione toscana il diavolo preme allora sull'acceleratore la conclusione mancina di Petrella al ventesimo è fuori misura quella di Di Paolo Antonio minuto 26 termina non molto distante dall'incrocio dei pali Amadio tornato sui livelli lo scorso campionato al ventinovesimo chiude il triangolo con Moreo con Di Masi costretto all'uscita a Valanga la lucchese barcolla e crolla un minuto dopo quando Petrella grazie al lavoro spalle alla porta di Forte su Altobello taglia in due la retroguardia rossonera col destro che trova la parte interna del palo e con la sfera che si insacca in rete per il 2-0 la reazione è timida priva dell'intervallo della lucchese nel destro a giro di un soffio fuori di Pozzebon ma il Teramo ogni volta che affonda fa male appena rientrati dagli spogliatoi cala il Tris nemmeno tre minuti è forte e vede con la coda dell'occhio l'arrivo sulla corsia di Di Paolo Antonio che si sistema il pallone sul destro apre il compasso e batte ancora Di Masi di fatto i biancorossi mettono in ghiaccio la vittoria da questo momento in poi e mancherebbero ancora 42 minuti più recupero e solo gestione del risultato nella lucchese il più attivo è sempre Terrani al cinquantesimo imbecca Fanucchi chiuso dalla spaccata di Cecchini che diventa un assist per la testa ancora di Pozzebon che manca clamorosamente allo specchio della porta allora Terrani si mette in proprio col destro dal vertice dell'area di rigore che crea qualche grettacapo a Narduzzo poi la girandola delle sostituzioni entrano i giovani Palma, Tini e Palestini per Petrella, Maddio e Cruciani poi la lunga attesa fino al fischio finale che a Teramo legala la vittoria e la sicurezza della permanenza in Lega Pro sabato la trasferta di Vistoia sarà con il traguardo già in tasca per la lucchese invece c'è ancora da lottare e alle porte l'impegno insidioso a Ponte Della contro il tutto cuoio e ora le dolenti note quelle dell'Aquila sul messaggero l'Aquila sprofonda rissa giocatori tifosi Modica parte male rosso-blu sconfitti in casa 1-2 dal Siena sono terzultimi dopo la gara ci sarebbe stato uno scontro tra due giocatori e un gruppo di contestatori Chirieletti e San Domenico reagiscono alle contestazioni volano parole grosse e forse anche colpi ora anche gli atleti rischierebbero il Daspo quest'ora al lavoro per chiarire in fretta la dinamica dei fatti Modica i gol in avvio ci hanno tramortito i ragazzi hanno un blocco mentale dovevano essere più attenti nei primi minuti della partita vediamo ora il centro con la due pagine ecco qui l'Aquila affonda tifosi contro calciatori rosso-blu cedono in 14 minuti al Siena parapiglia tra San Domenico e Chirieletti e un gruppo di tifosi indaga la polizia Modica la squadra si è smarrita il tecnico all'esordio individua i mali della squadra è un problema di testa zuffa tra insulti e minacce auto scortate dalla polizia il concitato post partita coinvolge anche alcuni accompagnatori degli atleti caccia le immagini per individuare i responsabili possibili d'aspo in arrivo e ora i riflessi filmati di l'Aquila Siena 1-2 la cura Modica non sortisce effetti ed ora per l'Aquila si complica maledettamente la strada che porta alla salvezza diretta complice un avvio di partita shock l'undici rosso-blu si fa superare a domicilio da un Siena giunto nel capoluogo abruzzese senza alcuna belleità di classifica fanno già discutere le scelte del tecnico di Mazzara del Vallo che nelle prime dichiarazioni non sembrava intenzionato a sconvolgere la struttura di squadra ed invece nell'undici di partenza del quale e Piva sono i centrali di difesa Cosentini per la prima volta in stagione gioca in mediana affiancato da Bulevardi e Manuel Mancini Triarico nel tridente con San Domenico e De Sousa il tutto nel 4-3-3 marchio di fabbrica di Modica va dopo un destro dal limite di San Domenico l'avvio di gara è da incubo sette minuti e il lancio di Burrai fa saltare la difesa aquilana Scotti è in ritardo su Yamga e Zaronato di Vicenza decreta la massima punizione ammonendo Scotti dagli undici metri Burrai fa centro benché l'estremo di casa scelga l'angolo giusto il pomeriggio di Scotti ed è l'Aquila è reso ancora più amaro al 14esimo quando Pellegrini effettua un cross all'apparenza senza pretese ma la traiettoria Beffarda finisce la sua corsa in fondo al sacco 0-2 e partita segnata anche perché l'Aquila a metà tempo si ridesta ma non riesce a dimezzare subito il distacco Piva trova in promondità De Sousa buona la sua girata ma la risposta di Montipò è all'altezza della situazione più agevole l'intervento del portiere senese poco più tardi sul tiro centrale di San Domenico ma la palla gol colossale viene divorata prima della mezz'ora da Triarico che mandato in campo aperto da De Sousa arriva a Tubertù con Montipò che ipnotizza l'esterno aquilano con un balzo felino protegge così il doppio vantaggio esaurita la spinta l'Aquila rischia ancora Scotti ancora non è perfetto su Burrai e viene poi graziato da Rozzi poi la sassata di La Vista sorvola di poco la traversa al rientro dagli spogliatoi Modica opta per un doppio cambio di Mercurio e Perna al posto di Chiri Eletti e Cosentini ma è ancora in Siena a sfiorare il Tris cross di Opiela e la correzione di Rozzi non è efficace al 73 simulazione che ridà Speranza ai padroni di casa Opiela intercetta con un braccio il cross di Triarico secondo rigore di giornata e seconda trasformazione questa volta di Sassà San Domenico gol numero 13 per lui nel finale gli attacchi dell'Aquila sono sterili e confusi tanto nervosismo e nulla più così la sconfitta si materializza e fa malissimo l'avventura di Modica inizia con una salita che si fa sempre più ripida e con 5 sconfitte nelle ultime 7 partite quello che viene fuori è il ritratto di una squadra a pezzi ora la serie D sul centro sprofondo giallorosso Giulianova K.O. con la fermana e resta ultimo eccellenza a un passo il Chieti non vede la porta solo un punto col Veregra Neroverdi a secco sul campo di una delle formazioni impelagate nei bassi fondi il tecnico marino gara difficile il ramarico è per le occasioni mancate e poi il San Nicolò vince crede nei playoff Biancazzurri di slancio sul campo della Miterminina ormai spacciata Misernia a fuoco allo spogliatoio Lavezano esce sconfitto utilizzati i locali dell'antistadio sul messaggero Giulianova l'ultima beffa e suo autogol Alfadini passa la fermana ormai per il futuro si guarda la fusione con il San Nicolò Mastrilli unica notaglieta mai titolare ma sempre a segno quando è entrato in campo il Chieti non sfonda speranze playoff ridotte Avezzano cappoa i segni alla salvezza in bilico San Nicolò Corsaro in remuntada ha scoppito e allora vediamoci due servizi di Serie D la sconfitta del Giulianova in casa contro la fermana la vittoria del San Nicolò ha scoppito come da pronostico la fermana conquista l'intera posta al Rubens Fadini al cospetto di un Giulianova virtualmente ma non ancora matematicamente in eccellenza match scontato con i ragazzi di Dragone che hanno messo in campo la solita generosità che non è però bastata al cospetto dei marchigiani ancora in lotta per i playoff e ovviamente molto motivati la gara si gioca in uno stadio praticamente deserto e con una cinquantina di sostenitori ospiti al seguito dell'undici marchigiano i giallorossi dimostrano però di non essere rassegnati e in campo danno quantomeno battaglia al cospetto di una fermana tecnicamente superiore il calo nella ripresa della formazione di casa sarà però determinante al decimo la prima emozione di marca ospite con un tiro dai 25 metri di Molinari che chiama Ursini alla respinta la risposta locale arriva al quindicesimo con un bel colpo di tacco sotto misura in area ad opera di Di Pasquale su punizione battuta da De Cerchio la gara è tutto sommato piacevole con i 22 in campo che non si risparmiano nonostante il primo vero caldo della stagione al 25esimo De Cerchio prende la mira dai 20 metri mettendo però a lato dopo una fase di stanca al 33esimo si rivede la squadra giallo-blu ancora con Molinari che mette i brividi ad Ursini poi più nulla e squadre negli spogliatoi sul risultato ad occhiali nella ripresa al secondo ospiti subito pericolosi con Valdes che si divora portavuota in scivolata il vantaggio al quarto dopo un batti e ribatti in area giuliese Misin di testa chiamare Ursini al miracolo passa un minuto e ancora in area giallo-rossa Molinari riesce solo a spizzicare di testa con Bossa che poi manca l'appuntamento con il pallone la squadra di destro sembra crederci di più e inizia a spingere con maggiore convinzione così puntuale al nono arriva il vantaggio con Molinari il migliore dei suoi che su cross di Russo mette di testa alle spalle dell'incolpevole Ursini i giallo-rossi a corto di fiato rischiano di crollare visto che al diciottesimo è il neo entrato per un uro a chiamare al salvataggio Ursini e poi un minuto dopo invece Russo di testa a colpire in pieno la traversa il raddoppio marchigiano è nell'area e arriva al ventunesimo con un autorete di Marzucco che su cross di Otti nel tentativo di liberare mette la palla nella sua porta gara non del tutto conclusa visto che i giallo-rossi accorciano con Mastrilli che al ventisettesimo di testa mette alle spalle di Oczak su cross di Pellecchia prendono coraggio i cuori giuliesi sugli spalti anche se al trentaseiesimo è però nullo a mancare di un soffio il tris ospite prima del mestofinale che vede al quarantesimo una respinta di Ursini su tiro violento dalla distanza di Peronullo che poi al quarantunesimo ci riprova su punizione trovando ancora la respinta del portiere giuliese il trebice fischio finale di Reinone di Nola mette fine a Giuliano Vafano e di fatto alla sfortunata stagione dei giallorossi e ora l'obiettivo resta quello di chiudere degnamente una stagione da dimenticare anche se fra i tifosi a tenere banco è la questione riguardante la possibile fusione con il San Nicolò dopo il tonfo casalingo con la Re Canatese il San Nicolò torna in corsa per il quinto posto l'undici di Massimo Epifani passa da autorità 1 a 3 sul campo di Scoppito e approfitta del passo falso della Re Canatese a guidare il San Nicolò Andrea Bucchi autore di una doppietta per la Miternina apparsa oggi rassegnata un'altra sconfitta che spalanca sempre di più le porte della retrocessione in eccellenza senza Torbidone e Schipel di felice si affida a Teriaca e Gizzi in attacco nel San Nicolò partono dalla panchina Casolla Chiacchiarelli e Moretti la compagine Teramana inizia con il giusto piglio e colleziona una serie di palle gol che esaltano le qualità del portiere di casa Di Vincenzo che inizia il suo lavoro dopo il quarto d'ora su Merlonghi sugli sviluppi di un successivo corner Di Vincenzo e superlativo sulla battuta di Bucchi 24esimo azione di rimessa san nicolese Mozzoni ispira Merlonghi ma ancora una volta Di Vincenzo è attento l'estremo scoppitano è ancora più bravo poco dopo la mezz'ora sempre sul tentativo di Merlonghi ben servito da De Giglio il gol arriva al 36esimo ed è contestato dalla Miterina perché originato da un contatto dubbio tra Rapino e Teriaca l'azione prosegue e Massetti va al traversone Merlonghi è in ritardo mentre Bucchi riesce a concludere e a fare centro con l'ausilio di alcune carambole su Palo e di Vincenzo 1-0 San Nicolò la Miterina però ha un guizzo d'orgoglio e prima dell'intervallo ciuffa la parità con Giordano che al 41esimo entra in campo al posto di D'Alessandris e al 43esimo trova la Via della Rete con una finalizzazione sulla quale l'estremo ospite Calore non è perfetto nella ripresa la squadra di Epifani si rimette sotto a caccia del nuovo vantaggio le notizie della rimonta della Samb caricano il San Nicolò che al 13esimo centra l'1-2 gran merito alla discesa sulla destra di De Giglio che serve al centro Bucchi che con una botta non lascia scampo a Di Vincenzo per l'ex Terramano e il gol numero 7 in campionato e al 20esimo il San Nicolò chiude i conti evitando ulteriori sorprese nel finale stavolta Bucchi indossa i panni dell'assistman per Merlonghi che fila via in velocità e batte Di Vincenzo 1-3 e soddisfazione personale per l'attaccante che arriva in doppia cifra di realizzazioni la partita di fatto finisce qui per la mitternina nel dopogara non c'è voglia di parlare il San Nicolò torna a vincere in trasferta dopo tre mesi la rincorsa verso i playoff riprende sul centro il basket a due Abruzzesi ok Roseto rischia nel finale ma passa Recanati la McEnergy si fa rimontare nell'ultimo quarto poi riprende il volo finisce 82 a 90 con 32 punti del solito Allen Trullo questa era una partita che temevo e ora l'allenatore guarda i playoff siamo una sorpresa giocheremo una palla canestro piacevole poi ancora basket in carrozzina la Micacci Giulianova batte Cantù e si avvicina alla finale Scudetto Proger Chieti una vittoria per salutare i tifosi ultima in casa battuta matera e sugli spalti è festa 87 a 60 il finale per la squadra di Massimo Galli le parole dell'ala Luigi Sergio volevamo chiudere bene Monaldi possiamo essere contenti di come è andato questo campionato in serie B l'amatori firma l'impresa colpo sul campo della capolista Montegranaro e sono 13 successi di fila 75 a 78 per la squadra di Salvemini Campli batte Monteroni e si assicura almeno il quarto posto 94 a 86 BCC Vasto è l'ennesimo KO ora la squadra di Luise non resta che sperare nei play out 79 a 66 la sconfitta contro il Valmontone e poi Giulianova è festa dopo una stagione difficile l'allenatore Franca Agni non ha mai avuto l'organico al completo Guiro Ortona derby archiviato si pensa ai play off finì influente la prossima gara con il Monte Granaro dell'ex Diomede stavano si era giocato il derby appunto tra Giulianova e Ortona con vittoria di 2 67 a 65 del Giulianova e annessa salvezza in C Silver Teramo il sogno della B continua secco 3 a 0 contro il Termoli il primo maggio scatta la fase nazionale con la trasferta a Cefalù la vittoria 83 a 64 appunto della Meta Teramo che in tre partite ha liquidato la pratica Termoli per la fase finale della C Silver poi ancora per il calcio a 5 verso la Final Four Cuzzolino il Pescara sulla vetta d'Europa vedo la Coppa al 50% il fuoriclasse argentino vuole riportare dalla Spagna la UEFA Futsal Cup per noi sarà una battaglia molto dura e andiamo a chiudere con il messaggero con il campionato di eccellenza abruzzese Vastese Cinquina Serie D a un passo nessuna resistenza del già retrocesso Celano doppietta di Tarquini a 90 minuti dal termine gli Adriatici mantengono il punto di vantaggio la tifoseria si sta già organizzando per la trasferta di domenica contro la Val di Sangro il Paterno vince e continua a sperare 3 a 0 proprio ai danni della Val di Sangro questa è la situazione a 90 minuti dalla fine Vastese 71 punti Paterno 70 tutto si deciderà nell'ultima giornata con la Vastese in trasferta sul campo della Val di Sangro e il Paterno in trasferta a Città Sant'Angelo contro la Renato Curi Angolana finisce qui mattino 6 grazie a Gianni Deoreo in regia grazie a voi che ci avete seguito e vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 alle ore 14 19 e 23 e poi questa sera replay di Enrico Rocchi per parlare del buon momento del Pescara in un lunedì che è già di vigilia per la gara di La Spezia di domani sera buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti